Vuoi una vita da sogno? Comincia dal divano! In poltrona e sofà c'è la collezione Paradiso al 50% di sconto Giavello con letto a 649 euro Canterini in pelle con relax elettrici a 990 euro Casotta con letto scorrevole a 799 euro Moglia con penisola e relax a 798 euro Un divano da sogno? Se sei sveglio lo prendi! Poltrona e sofà, solo divani di qualità al 50% di sconto Grazie a tutti!